Direttore, nuovi uffizi, una nuova area dove c'è un ottimo connubio tra il passato e il presente e anche il futuro che rappresenta per gli uffizi? Senz'altro qui siamo nell'auditorium Vasari, quindi uno spazio che è intitolato all'architetto degli uffizi, ma non solo. Proprio qui, in questa zona, nel cosiddetto braccio corto, nell'ala di ponente degli uffizi, si conserva ancora l'architettura cinquecentesca del Vasari, per questo è giusto, già per questo, di intitolarlo al Vasari. Però ancora di più, Vasari è noto non soltanto come architetto e come pittore, ma anche per le sue vite degli artisti. Quindi qui si entra dal campo della prassi al campo della riflessione e l'auditorium Vasari effettivamente serve proprio a quella funzione che dal 1769, quando il gran duca Pietro Leopoldo di Toscana ha trasformato gli uffizi da una collezione principesca in un museo moderno, nel senso moderno della parola, e quindi è un museo che ha una collezione incentrata sulla funzione didattica, dell'educazione, della ricerca. Per questo qui faremo dei convegni, delle lezioni, delle dimostrazioni, anche dei dibattiti e eventi lavoratori pedagogici. Quindi è veramente uno spazio fondamentale per il nostro museo, per la funzione centrale del nostro museo. Per giunta ci sono, come vedete dietro di me, le vecchie, le antiche porte originali degli uffizi, che furono tolte già nel Novecento, sostituite da porte moderni, più semplici, funzionali, per preservarli. Perché questi sono i grandi monumenti, non soltanto ai disegni del Rinascimento, ma proprio all'arte, ma anche all'artigianato. E quindi speriamo anche di dare una nuova spinta, ricordando queste grandi testimonianze del passato, per preservare e proprio far rifiurire l'artigianato a Firenze e in Toscana. Qui abbiamo ancora artigiani che in molti altri paesi non esistono più, per via dell'industrializzazione non esistono più. Qui in Toscana e nell'oltre Arno anche di Firenze ci sono ancora. Questi vanno preservati e proprio queste tecniche, questo patrimonio immateriale della fiorentinità, della toscanità e dell'umanità, va preservato. Qui vediamo veramente dei capolavori eccellenti in questa sezione per quanto riguarda la Falina Maria, cioè i legnaioli, i florentini che erano noti in tutto il mondo. Abbiamo altre sale dedicato alla storia degli Uffizi, dalla Sala dell'Arianna Dormiente, che ricorda l'importanza della scultura antica per la formazione delle collezioni, alla Sala della Fondazione degli Uffizi con i rilievi con le gesta di Cosimo I, alla Sala della Fabbrica Valsariana con i modelli che fanno capire i suoi disegni e come nacquero gli Uffizi nel Cinquecento, alla Sala Arata Isozaki, che è intesa non soltanto per commemorare e celebrare il grande concorso internazionale del 1999 vinto dall'architetto giapponese Arata Isozaki, ma qui anche per ricordare e sperare che si va in futuro da qui e che questa piazza centrale, la piazza del Grano, a pochi metri da Palazzo Vecchio e dagli Uffizi non rimarrà per il futuro un buco con una gru, ma che verrà realizzata e finita. Qui abbiamo fatto un passo avanti, un grande passo avanti nei nuovi Uffizi, quindi man mano ci avviciniamo sempre all'ultimo passo che sarà appunto la piazza del Grano.